Minchia, Bocano, provincia di... Max Colaiera Il pelato di tu... No! Max Colaiera Il pelato del tutto Dovrai voltare pagina e vivere la tua vita Trovare il tuo destino Eh, guarda Stavi parlando nel sonno Urg, che tipo Eh, così Ok La Mantis Traffa parte del paggio Allora, qui c'è qualcosa di interessante Urg, interagisci Dai, una chitarra? Sì! Una chitarra! O qualcosa di... No, sì Sembra uno strumento musicale Da-na-na-na Quella canzone L'ho scritta io Tanti anni fa Quando tocchi un oggetto Evochi le sue immagini Percepisci il suo passato È... un eco della forza dall'oggetto Sono pochi Jedi Ne sono capaci Eh, io sono... Una volta ero un Jedi Ma ora non più Basta Ti conosco? No No, eh Ma conoscevo il tuo maestro Ah Giaro Tappalla Giaro Tappalla Eh, sì Ascolta Mi è successo qualcosa Durante l'epurazione Che? Sono sopravvissuto Ma La mia connessione alla forza È danneggiata Eh Quando medito Si abbasso la guardia Io Perdo il controllo È come se tornassi a quando Sei sopravvissuto, Cal E non sei solo Ora non più Ok Stiamo arrivato a destinazione Minchia Bogano Provincia di Ok Chitarra 12.300 Eh, sì Bogano Ah Non si trova su nessuna mappa Uh, fico Oh, bene Parola Basta Vedi quella struttura laggiù Sì In quella cripta Si trova la chiave Per rifondare L'ordine Jedi Ah Ma Solo qualcuno potente Nella forza Supera la prova E non essendo più un Jedi Hai bisogno di me Eh sì Lo so che non ti fidi di me E anch'io Non so se fidarmi di te Ah, grazie Abbiamo un nemico comune E una causa comune Saprai di più sul mio piano Quando sarai alla cripta Ok Ma Prima però C'è qualcuno che vuole conoscerti E chi? E con il tuo spirito Chi è che mi vuole conoscere? Ok Quindi bisogna trovare un Jedi Ma se qui ce n'è già uno Perché Sira ha bisogno di me? Ecco il tuo spirito Scendiamo di qua Che pa... Che cazzo Ehm Vieni qua Ehm No Scherzavo Non si aggrappa? Dai Aggrappati Non si aggrappa Ma vaffanculo Non bisogna andare Cazzo Visto dei tubi Dei codi Ho un posto per meditare Devo solo concentrarmi Salto di là Vai No Ah qua Ecco Medita Vai Punto di salvataggio Ah ecco Sono saggrappa E' abbastanza Può di prendere una nuova abilità Apri l'albero di abilità Per usarli Ok L'albero di abilità Vai Usa Può di imparare Il fendente alto Ok Ah devo tenere premuto Perché Ovviamente Ok Ok A posto C'è solo Ok Ok Perfetto Esci A posto Quindi Ti 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 C'è Oh Che che aspetta Che cazzo Eh vabbè Andiamo Eccola 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 Ok Che fa Ah L'ambitudine Vi raggiungi la mappa Raggiungi la cripta Sarà il solito Ma se Vi raggiungi la mappa Di B di 1 Ok Ok Ho capito Ok ok Per uscire dalla mappa Com'è che si esce Adoro Adoro Anche lì Se non ti fa uscire dalla mappa Non ha poi passare anche bene a scusare nel poterimenti riponporta Ah per quello non mi facciamo andare Ok Che cazzo è? Eh Eh Lascia qualcosa Aspetta Cos'è? Richiama Echo Cos'è? Cazzo Interagisci Spengo tutto Vai Sì Vabbè poi eh Per uscire di qua adesso E come si fa? Eh belì Scusa Eh vaffanculo Lo faccio poi Quello Che cazzo Mamma mia Vieni ciccio Vediamo dove dici te che Alla versagliera Medita Ok Meditiamo E abbiamo il checkpoint Un po' come Dark Souls Apri Non si passa Deeeh Quando mai? Alla versagliera Che cazzo? Eh proprio Alla versagliera Vieni qua Fico Se non si può passare Ah 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 Che cazzo? Arriva Arriva Oh quieta Eh sì Uh si è rotto Eh infatti Eh dai dai Ah 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 che fico Aggiustatina Massaggino Come nuovo Dunque Il braccio connettore è andato Ma Questo dovrebbe aiutarti a muoversi per ora Salvatura qui Salvatura là A posto Ecco fatto Prova così Però A posto? La cripta Anch'io stavo andando lì Eh Certo Beh Prima dobbiamo capire come uscire da qui Eh Ma non c'era un Ah ah Personalista Spalla Cosa? Cosa? Ragazzi Pengui Cioè Star Wars C'è di Fallen Order Uscito Qualche mese fa Mai Forse l'anno scorso Colore Blu Verde Contenuto premio No vabbè Teniamola blu Emettitore Vabbè Interruttore Che palle Liga metallica B Checkpoints O come Eh Un po' come Il fallo di Dark Souls Così Vabbè dai Mantieni Però Esatto E vai No È buona Sì ma grappati Tacci tua Si vede un cazzo Porco zia Dai Salta Oh Oh Ora è andato Dai Qua non c'è niente Ok Ops Ah Fatta la cagata Mi sa Ah Cazzo Ah Cazzo Curati Cos'è? Uno stimo di guarigione Sei pieno di sorprese Però Però Ah La pera Al posto Dalla fiasca Di Estus Eh Eh Che carino Benvenuto Welcome aboard Allora Come sei arrivato Non ricordi Mai visto Il smemorato Siamo d'accordo Se passi qua Non le lascia Le palle Per accedere In qualsiasi momento Ah Ecco Vedi Fico Ora Ora Si Esplorato 19% Taglia Dobbiamo andare lì Eh si Lo sento Tantaran Tantaran Aspetta Non è che c'è Questo? Quello si Che è un isettone Chico Andiamo di là Vai vai Quello là Cioè Veramente Giganterrimo Qua Beh Qua Vedremo Fico Ha ha La versagliera Grande Finditura Mirabitata Allora Una mappa Una mappa Di dove siamo Stati Non c'è Signore Fico Iniziale Ok Ok Non ci arrivo Laggiù Troviamo Un altro Modo Eh Troviamo Ma ci arrivi Lì Cazzo Da Ma perché Non si aggrappa Ma vaffanculo Vai Lasciatelo dire Va Eolino Uh Cosa c'è qua Interessante Che fa Che cazzo Hai trovato qualcosa Nuovo E mettiamoci questo Edita Quando riposi Mi ci compa La Dark Souls Cazzo 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 Qualcuno ha usato Questo strumento Per arrivare alla Cripta Così Che storia No Siedi qua Dai Andiamo Vai 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 Pics Bics Bics No 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 Sì, ma salto! Perché non... Che paura! Cristo! Via! Siamo venuti per... Eh vabbè Riproviamo dall'ultimo falò No, no, non cambio difficoltà Non è difficile, dai Dobbiamo arrivare a sto cazzo di tempio Cazzo, cioè Eh, voglio arrivarci Allora Vai Uli sopra Cazzo Cazzo Alevati dei coglioni Via Via Qua! Eh, ora salici qua! Merda! Allora Allora è giusto di qua, eh È giusto di qua Ah 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 posto No Ok Perfetto Non restare indietro BD1 Eh, infatti Sennò Sono volati i diabetici, eh C'è che è russa? Vedi qualcosa lì? Vedi qualcosa lì? Oh, qua c'è qualcosa Cos'è? Lì? Cos'è? Aspetta Riprovaci È difficile, maestro Sì Il cammino è difficile Può sembrare impossibile Ma con la tenacia E la forza come tu e alleate Affronterai qualsiasi ostacolo No, che brutto lui da bambino Sembra Benjamin Button Sembra, dai Curioso caso di Benjamin Button, dai Corri e salta Ah Fico Ora, vieni da me Ce l'ho fatta Con la tenacia e la forza come tu e alleate Ce l'ho fatta C'è qualcosa lì? C'è qualcosa , li sento, sì avevo detto che c'era qualcosa questa borsa l'hanno portata da Corsant erano delusi dal consiglio dei Jedi eh merito ah ma l'abilità vai ah apprendiamo cosa possiamo apprendere salute Massimo Calum vai forza tac a posto uh qua ah vedi e troverai qualcosa di utile un nuovo interruttore vabbè scorciatoio sbloccata biaccio ok devo andare ok devo andare eh ec 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 urca che cazzo dice c'è no dai belino eccoci siamo arrivati cazzo finalmente interagisci tac sembrano simboli agizi sembrano perché gli Jedi urca che dico entriamo è che c'è qualcosa eh visto a sapere che hai trovato qui da secoli descrizione incarnito vabbè dai 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 incredibile ancora una volta scansiona scansioni me raggiunge la cripta tutto bene vedi chi è ben fatto chiunque tu sia hai superato la prova che avevo lasciato e hai ottenuto l'accesso alla cripta e a questa registrazione una delle tante criptate immagazzinate nel droide io sono il maestro Ino Cordova e anche se non conosco il tuo nome conosco il tuo scopo il destino dell'ordine Jedi è riposto nelle tue mani ah questo posto questa cripta è un tempio sacro vabbè zeffo ecco minchia ah posso affidare l'olocrono solo a qualcuno che abbia seguito il mio cammino e che lo comprenda insomma e impara a percepire i misteri della forza come facevano gli zeffo il droide ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per superare questa prova va sul pianeta natale degli zeffo ecco potrai trovare pace nell'occhio del ciclone buona fortuna Jedi e che la forza sia con te mi coni il tuo spirito va bene ah quindi devo cioè per poter insomma e così sei tu il mio compagno di viaggio eh sì quanto pare sai sono solo da da un po' ormai e il mio unico scopo è quello di nascondermi ah ecco questa non è dita no non per un Jedi vabbè né per un droide eh no forse aveva ragione Sir eh chissà non dobbiamo più nasconderci no io non ho ehi ti andrebbe di conoscere qualcuno dei miei amici dai andiamo 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 c'è un po' di di sfocatura che cazzo ma levato le cose però scusa eh io no cosa la sfocatura l'he levata la sfocatura ovviamente l'he levata perché c'è sempre un po' di mmm un po' c'è sempre lo stesso il primo soccorso è il padavolo meditiamo vai eh primo soccorso ogni tanto studiarlo anch'io per i negozi aspetta aspetta salve cazzo 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 dai cazzo 2.000 anni later ma quindi oh vicino abbandonato quando mai forse ce l'abbiamo fatta Dio mio questa parte la taglierò perché non la monto eh pare che gli zeffo provassero interesse per Datomir Datomir è strano perché una cultura così pacifica provasse una tale attrazione per un posto tanto oscuro scorciatoio sbloccherata a posto possiamo andare cosa a posto ok impiegheremo di meno per il ritorno no ce l'ho infatta oh Dio mio scusa ma non guarda le maffe no ah ok quello viene giù si col cazzo vengo giù no minchia tra un po' però devo minchia ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ok adesso controllo controllo vai gallerie gallerie dei boni a posto a posto dai quindi ah di qua buona salve 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 hai superato la prova eh gris gris eh gris ah ma ah ma ma ce l'ho a quattrobraccia sas Sos Eh E che cazzo ne so A posto Sì Ma così Devo malata a sé Se Scusa Aspetta un attimo Un holocron In magazzina informazioni Accessibili solo ai Jedi Aspetta deve esserci Fa vedere Ah eccolo Usa la forza Ma già che non so Ai Jedi Ok E' lui Con la lista dei sensibili alla forza Possiamo ricostruire l'ordine Jedi E sconfiggere l'impero Allora Che problema c'è Prendiamolo L'holocron è nascosto dentro la cripta E per trovarlo Dobbiamo seguire il cammino di Cordova Ha detto qualcosa sul pianeta d'Atomir E su quello natale degli Zeffo Bene Adesso che si fa C'è tempo di preparare qualcosa da mangiare? Sì Senti Prima di tutto Ho una domanda da farti Dimmi vai Come mai non sei più un Jedi? Ho avuto un'esperienza Che ha cambiato le mie prospettive E di conseguenza Mi sono tagliata fuori dalla forza Cioè Però vuoi ricostruire l'ordine? Credo che ricostruire l'ordine Sia la migliore possibilità Che abbiamo contro l'impero Tu che ne pensi? Hmm Non possiamo continuare a nasconderci dall'impero Non abbiamo altra scelta Cal finché sei in vita Avrai sempre Un'altra scelta Chi ci? Sei con noi? Dai Dai Sì certo Ah grande Uiga Dai Sì Grazie Grazie Sì Grazie Sì 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 Grazie a tutti